Ben trovati ad una nuova puntata di insieme oltre il 2000. Quest'oggi protagonista ancora una volta il mondo del volontariato e protagonista è l'associazione Pollicino di Belluno, associazione storica che opera in Romania per portare aiuto ai bambini con disagio sociale, che soffrono condizioni di abbandono, di difficoltà familiari e abbiamo ospite con noi la presidente Morena Pavei che ringraziamo per essere nuovamente qui in questi nostri studi a raccontare le tante attività dell'associazione. Ben trovata Morena. Grazie, sono io che devo ringraziare voi perché è sempre un piacere poter parlare dell'associazione Pollicino. E quando si fa tanto è giusto divulgare i nostri bellunesi che da tanti anni supportano anche le attività dell'associazione stessa, è bello divulgare e condividere le tante iniziative che vengono proposte, anche perché c'è una novità importante, presidente, da quando dopo il lockdown finalmente la struttura è tornata a riaprire le porte. Allora, raccontiamo proprio questo. Allora, il primo giugno ricorre la giornata, ricorreva la giornata internazionale del bambino e Casa Pollicino ha aperto le porte ai suoi bambini, ai suoi numerosi bambini. È stata scelta questa giornata proprio per celebrare tutti i bambini del mondo e devo dire che è stata un po' una sorpresa per noi, che ci ha anche molto emozionato. Dovevamo aprire la casa in settembre, in base alle direttive che c'erano alle varie ordinanze ministeriali che poi la Romania è in comunità europea, quindi diciamo che funziona tutto come funziona qua da noi. E questa apertura così anticipata di un paio di mesi ci ha veramente sorpreso. devo dire che in questo ha giocato la bravura della nostra direttrice, la Florentina Presecani e di tutte le nostre operatrici che sono riuscite a lavorare e devo dire proprio giorno e notte per studiare, per mettere a punto tutti gli spazi e tutte le attività per portare i bambini nuovamente in casa Pollicino. Quindi tra l'altro aggiungo una cosa, purtroppo quei mesi di lockdown sono stati terribili a Petrosciani, c'era molto freddo, al mattino c'erano due e tre gradi, ha sempre piovuto e noi avevamo molti bambini in strada, quindi la felicità di poter aprire le porte è stata veramente grandissima. Quindi riaperto le porte, riorganizzato tutti gli spazi e il lavoro che è stato fatto è stato fatto un lavoro veramente certosino proprio, hanno messo a punto tutto in maniera perfetta. Abbiamo un numero molto elevato di bambini e ragazzi in disagio sociale, perché vanno dai 45, 47, 49, abbiamo meno bambini con le varie disabilità. Solitamente anche loro arrivano sui 30, venerdì ne avevamo 14, lunedì erano 17. Questo è però comprensibile perché la maggior parte dei nostri bambini soffrono di patologie molto importanti. Faccio un esempio, la Theo è una ragazzina affetta da sindrome Down, ha 28 anni ormai, la Theo è stata una delle prime bambine che nel 2008, il 4 ottobre quando abbiamo inaugurato la casa, è entrata in casa Pollicino e ce l'abbiamo ancora là, la Theo per esempio ha tre stimolatori cardiaci, quindi la mamma cerca di tutelarla il più possibile tenendola in casa e molti di loro non frequentano per questo motivo. Però la nostra direttrice, la Florentina, è rimasta molto sorpresa e molto felice quando ha visto questa affluenza così di massa, diciamo, perché pensava visto il periodo, la casa chiusa da quasi tre mesi, che gli ingressi fossero scaglionati e ci fosse anche più di fidenza mandare i bambini all'interno di una struttura e invece direi che ha ripreso tutti i suoi sorrisi, tutte le sue corse e tutto. Avevano voglia di tornare a casa, no? In quella che appunto loro sentono proprio come la loro casa. Veniamo Presidente un pochino a spiegare, a raccontare quali sono anche le misure di sicurezza che comunque sono state adattate sempre per evitare, diciamo, i possibili casi di contagio, no? All'interno della casa. Allora, innanzitutto all'ingresso viene misurata la temperatura e sanificate le manine. Questo sia all'ingresso che all'uscita, per dire la, diciamo, l'attenzione che hanno le nostre operatrici. Quindi questo, diciamo, è il primo passaggio. Poi sono stati riorganizzati gli spazi in maniera completamente diversa rispetto a prima. Quindi abbiamo le varie stanze con le varie attività, i gruppetti di bambini sono di sei, sette bambini al massimo con un'operatrice e anche gli orari di permanenza in casa sono diversi, perché prima i bambini arrivavano verso le nove, nove e mezzo e il primo pulmino poi ripartiva verso le tre del pomeriggio, tre un quarto, tre e mezzo. Adesso, per dare la possibilità a più bambini di rientrare, come dicevi tu Luisa, nella loro casa, c'è una permanenza più corta. Quindi il primo pulmino arriva alle otto e l'ultimo parte alle sei di sera. Quindi c'è uno sforzo anche da parte delle nostre operatrici di raddoppiare praticamente il loro orario di lavoro per dare la possibilità a più bambini di arrivare in casa. Poi sono stati fatti anche dei percorsi, abbiamo anche del materiale fotografico, dei percorsi simpaticissimi dove ci sono le manine che indicano l'ingresso per esempio in mensa, poi ci sono i piedini che indicano l'ingresso ai bagni. Quindi diciamo che hanno lavorato veramente bene e la casa adesso è tutta occupata, perché solitamente veniva occupato il piano terra con i bambini più piccoli nella loro sala di attività e il primo piano con i ragazzi più grandi e la palestra per il recupero funzionale. Adesso abbiamo occupato anche il secondo piano dove ci sono tre stanze di attività, ma solitamente il terzo piano ospita tutti i volontari e i vari stagi che partono da Belluno. Certo, perché sappiamo appunto che c'è una sinergia molto stretta, no? Ovviamente con la provincia, quindi c'è un bel movimento anche che si crea. C'è un bel movimento e purtroppo questa situazione ci ha privato di questo movimento importante, perché cito lo stage del Catullo, è fondamentale perché le ragazzine arrivano e portano i nostri bambini una ventata di freschezza. Portano baci, portano carezze, portano abbracci, portano tutte quelle attenzioni che loro hanno durante l'anno, ma non in maniera così intensa. E quindi purtroppo quest'anno questo ci è venuto a mancare. Che quella era un'attività che si svolgeva sempre nel periodo estivo, no? Solitamente si svolge dalla seconda settimana di giugno fino alla fine di giugno, le ultime due settimane di giugno. Le ragazze del Catullo praticamente invece di fare uno stage in provincia, nelle nostre strutture, fanno lo stage in Casa Pollicino. Uno stage riconosciuto, anche perché questo è un progetto pilota che noi abbiamo presentato in regione, ti parlo ormai, il tempo corre, più di 12 anni fa. Il primo progetto che prevedeva uno stage all'estero è stato approvato e abbiamo questa bellissima collaborazione con l'Istituto Catullo da 12 anni. Che è una grande esperienza anche proprio per le ragazze stesse, oltre che per i giovani, i bambini che si trovano all'interno della struttura. Senta Presidente, c'è stato comunque anche un problema inizialmente, anche dal punto di vista economico, no? Di alcune difficoltà di dire riapriremo, non riapriremo? Allora, sì, devo dire che abbiamo trascorso dei mesi molto difficili, perché pensavamo di non riuscire più ad aprire la nostra struttura. Primo, perché mancando tutte queste attività primaverili ed estive di raccolta fondi, questo ci penalizza e ci penalizza ancora in maniera fortissima. Secondo, perché la situazione a Petrosciani, mancando i bambini, mancando il contributo della legge 34, che è un contributo che ci dà un grosso sollievo, per noi veramente non c'era, c'era un futuro molto ma molto incerto, molto incerto. Per quello dico che siamo molto, siamo proprio soddisfatti. Abbiamo cercato in questi mesi di lavorare per quello che c'era possibile lavorare, perché è difficile lavorare a distanza, no? Il fatto di essere là, di condividere fisicamente le emozioni, le preoccupazioni, le amarezze. Invece noi abbiamo fatto tutto tramite delle video telefonate, che si sono rivelate però molto utili, sia per noi per riacquistare un po' di entusiasmo e un po' di sicurezza anche, sia per le nostre operatrici, per la Florentina, per non sentirsi abbandonate. Però devo dire che questo periodo, vediamolo nella fase, diciamo, più positiva invece che più negativa, ci ha portato una consapevolezza che non è poco. Ci siamo resi conto che anche senza di noi, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista operativo, dal punto di vista di reperire informazioni per poter far sì che la casa non morisse, sono state di una bravura le nostre operatrici, soprattutto la Florentina, la nostra direttrice, straordinaria. E questo è gratificante per noi, perché vuol dire che in tutti questi anni abbiamo seminato, evidentemente abbiamo seminato bene e adesso stiamo raccogliendo anche i nostri frutti. In una situazione normale saremo partiti, avremo risolto i problemi in città, ovviamente a Petrosciani, avremmo cercato di tamponare, forse magari precludendo un po' anche questa loro libertà di azione e di movimento. E quindi è emersa anche l'intraprendenza, no? Sì, è emersa l'intraprendenza e questa potenzialità che si fa un po' respirare, no? Dici, beh, non ci sono, però loro sono in grado di andare avanti. Certo, e dare una sicurezza anche ai bambini. Ricordiamo un aspetto molto importante, Presidente, che i bambini vengono accolti al centro diurno e gli vengono offerte, soprattutto al di là delle attività, anche i beni, no? Di prima necessità, diciamo comunque un pasto, giusto? Sì. Allora, dal punto di vista igienico, loro arrivano, vengono tutti sdocciati, tutti, tutti. Cambiati i panni, lavati gli abiti sporchi, dato gli abiti puliti, fanno la colazione, quindi fanno la colazione, poi fanno le varie attività di recupero, riabilitazione, recupero scolastico, eccetera, dopodiché fanno un pasto caldo. E anche qua l'organizzazione della Mesa adesso è stata strutturata in maniera completamente diversa. prima mangiavano 40 bambini assieme, adesso mangiano 15 barra 20, quindi anche l'organizzazione della Mesa è completamente cambiata. Un pasto caldo, poi fanno un'attività scolastica di compiti e un'attività di gioco per i bambini più piccoli, dopodiché fanno la merenda e poi ripartono e rientrano nelle loro case. Ricordiamo ovviamente che per alcuni, per le situazioni più difficili, questo è l'unico pasto caldo. Questo è l'unico pasto caldo e magari forse è stato anche l'unico pasto per quello l'emergenza di riaprire la casa, perché molti di loro non mangiano. Ecco. Allora, in proposito, ricordiamo, condividiamo anche con i nostri telespettatori Presidente, come fare per supportare l'attività dell'Associazione Policino. Allora, abbiamo diverse forme per supportare la nostra attività e con tutte queste belle cose che adesso abbiamo elencato e che abbiamo raccontato, questo non va a togliere il problema economico che comunque ci affligge. Ecco. E quindi quello rimane. Abbiamo anche delle forme di adozione che puoi adottare la struttura e quindi aiuti tutti i bambini. C'è un'adozione invece del singolo bambino a distanza e poi abbiamo un'adozione che riguarda proprio diritto allo studio. Tutti i nostri bambini vengono dotati anche di materiale scolastico. Quindi abbiamo queste tre forme, diciamo, di adozione che ci aiutano. C'è un tesseramento annuale e anche questa è una piccola goccia, però insomma noi abbiamo visto che le piccole gocce poi vanno, no? A formare un grande lago e quindi c'è anche questa forma. Abbiamo il nostro sito che è www.comitatopolicino.org e in questo sito si trovano tutte le attività della casa e tutto quello che fa l'associazione. Abbiamo la sede che è in via 30 Aprile numero 5. E le porte sono aperte, vero? Sì, come a Petrosciani, a Casa Pollicino le porte aperte, anche la sede di Pollicino ha le porte aperte quindi noi siamo ben felici chi può passare. Abbiamo l'officina che è una, diciamo, una sfumatura della nostra associazione molto importante perché ormai le creazioni delle nostre signore sono conosciute anche fuori provincia e anche fuori regione. Quindi insomma ci sono molti modi per aiutarci. Abbiamo anche una pubblicazione che viene fatta ogni due o tre mesi, dipende da quando abbiamo delle belle notizie, quindi sono le briciole di Pollicino, quindi diciamo che i modi per aiutarci sono molti. I social su Facebook ci trovate, ci trovate su Instagram, quindi... Quindi il contatto c'è, insomma, la possibilità per dare un aiuto, come dice lei appunto, Morena, tante piccole gocce che poi messe assieme, insomma, possono dare davvero felicità felicità e sicurezza, soprattutto tranquillità, serenità, insomma, di aggettivi ne troviamo veramente tanti per i bambini di Petrosciani. Io la ringrazio ancora una volta per essere stata qui con noi, buon lavoro e ci ritroveremo presto. Grazie, grazie a voi, siete sempre gentilissimi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.